...diciamo di fare una cosa su Pierpaolo, ma ha avuto sempre questo tanto, diciamo, di fare qualche cosa su di lui. Con Abbe ci siamo sentiti ultimamente due anni fa, che vuole comprare una cosa insieme, e io ho detto, ah, perché no, vediamoci, insomma, ci siamo incontrati, e mi fece un quadro che è quello che lui avrebbe voluto fare su Pierpaolo, e io ho parlato con lui, abbiamo trovato un punto d'incontro e abbiamo fatto il film. Chiaramente io con Abbe mi sono trovato molto bene, anche diciamo se è un po' strano come me, è un po' strano.